Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie! Il 2022 che va ormai a concludersi è stato senza dubbio un anno molto intenso per Asia Argento, specialmente dal punto di vista professionale. La celebre attrice e regista italiana è tornata a collaborare con suo padre Dario nel film Occhiali Neri, un thriller poliziesco dove interpreta il ruolo di Rita, un'operatrice specializzata nell'assistenza di persone non vedenti che diventa amica della protagonista Diana, Ilenia Pastorelli. Se sul piano professionale le cose sembrano andare molto bene, sul piano privato Asia Argento ha dovuto fare i conti di recente con alcuni momenti davvero molto difficili. Proprio nelle scorse ore l'attrice vincitrice di Due David Di Donatello per Perdiamoci di Vista e compagna di viaggio ha pubblicato un post struggente su Instagram per esprimere tutto il suo dolore per la scomparsa di un grande amico. Nel post su Instagram l'artista ha infatti pubblicato alcune foto che la ritraggono assieme a Domenico Chico Loiacono, famoso tour manager e produttore di Bari, considerato una vera e propria leggenda della scena musicale underground europea. Loiacono è scomparso improvvisamente all'età di 54 anni e in queste ore sono molti i personaggi dello spettacolo che lo stanno ricordando sui social, tra cui proprio Asia Argento. Ho perso uno dei miei più cari amici e il mondo ha perso un essere umano veramente gentile, generoso, genuino, onesto, puro, stimolante, divertente, unico. Unico nel suo genere. Sono devastata oltre il dicibile, scrive la figlia di Dario Argento nel suo post.